musica bella a tutti ragazzi sono a show non vi è uno che sono il video in cui registro il video di Howard in cui ha fatto vedere i personaggi più astuti del web in cui ci sono io ok e ne siamo in descrizione senza dilungarci troppo partiamo perchè sta cosa non partiamo bella 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 è partito col freestyle già dal nord eh io è il freestyle solo che gli faccio dal nord dark polo gang che è la canzone no no dark polo gang non è la canzone è il gruppo che canta le canzone dark polo gang di spazzu esatto che è il titolo della canzone dark polo gang dark Gang 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 Bang bmm bmm bm bmm psic l cue sul �ourdes che cazz divided un st∈ura ? è mio amico sembra b� bабetz imaginina bil Increment tre ed tre ed pal Rosen heart col i però perché sto Bergamo io non lo concepisco non lo concepisco il mio culo sopra un bettley che cos'è un bettley sarebbe una macchina costosa ma ho sbagliato il mio play o sta come jimmy eeeeeee allunghiamo qualsiasi tipo di parola tanto ormai come gli Iron Maiden ma hanno problemi con le collane hanno dei problemi alle collane hanno dei problemi alle collane non ti offende chiamo tony vieni mi a prendere fatto come mickey jager come sa chi è mickey jager mickey jager ma chi è mickey jager fai finta come un wrestler borchiato come un emo borchiato come un emo buffando sottantagli euro calcio e mia madre puoi la porti in albergo schifo ma che schifo dark gang gang band sick look su bert brett allora questo bert brett cos'è su bert brett non è che vi chiamo un amico eh nome e cognome soldi ma non ho segni il mio copro vabbè il mio copro vabbè il mio copro che cazzo c'è fanno assolta ovviamente non finisce qui perché andiamo avanti con pesi sul collo porto pesi sul collo tempo mi esce una coppa sai che non la passo cristiano aveva iniziato comunque come prima con un elenco di coschi eh sì io ho fatto quello che mi sparo io ho fatto l'allestario sto contando non distrarmi io mi sto contando per cercare di distrarle mai noi siamo umani noi siamo umani non siamo umani ma sono alieni ma ho sbagliato io perchè è una contadizione non vado alla boccone lo rispolo e fendi fuma kusk in due boccone fuma e kusk in due boccone fuma e kusk in due boccone tanto sai non ti rispondo un zucco di sembra un caso basta diamo il mondo uno schiavo compro film alle mie donne giuro amore ti amo ti amo ti amo ti amo ma te lo dico io ti amo la follia quindi che dire ragazzi che questo video termine comunque lui non mi sta insultando questo video lui lo apprende sul ridere perchè ci ha gli ho stampato poi mettere like e commentare quindi non mi vengi per chi lo sta dicendo a rivederci